La procura di Arezzo ha aperto come prassi in questi casi un fascicolo per omicidio stradale per far piena luce sul terribile incidente in cui è perso la vita Paolo Berbeia, militare di 20 anni del genio ferroviario di Bologna. La titolare dell'inchiesta, la PM Laura Tadei, ha già disposto l'ispezione cadaverica sul corpo della vittima, la salma poi sarà restituita ai familiari. La finalità degli accertamenti è quella di riuscire a comprendere con quanta più esattezza possibile cosa sia accaduto e come si sia verificato lo schianto. L'incidente nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Arezzo, lungo la provinciale 21, nei pressi della rotatoria di Ruscello. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, spetterà infatti ai carabinieri della compagnia di Arezzo ricostruire la dinamica. L'auto, un Apollo Volkswagen, stava procedendo dal centro della città verso la periferia, quando per causa ancora in corso di accertamento è finita fuori strada, ribaltandosi più volte, almeno 4-5, finendo a 100 metri di distanza dalla carreggiata. Nello schianto ha anche urtato un palo della luce. La vittima viaggiava sul sedile posteriore. Nell'incidente sono rimasti feriti anche gli altri amici a bordo, tre ragazzi, tutti classe 2003. Due erano stati ricoverati all'ospedale di Arezzo e sono già stati rimessi. Uno è il più grave a Siena in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sarebbe infine già stato eseguito, come previsto dalla normativa, un primo test sul conducente che non avrebbe rivelato presenza di alcol sul sangue.